come apprendimento e come capacità di crescita attraverso l'improvvisazione, sono cose bellissime andatele a vedere tutte le mattine dalle 10 e mezza in poi, ma poi ancora molto bello il fatto che si torni quest'anno a San Francesco al Prato, dopo tanti anni di lavoro e di consolidamento questo luogo storico tornerà a suonare note di jazz ed è una cosa veramente molto bella, l'ultima cosa è che siamo tornati al Brufani con i concerti delle 18 e 30 dove il trio di Benningrina accompagna una cantante straordinaria che si chiama Veronica Swift, non perdetevelo perché è un altro di quei momenti indimenticabili, ma veniamo a questa sera, questa sera il festival mostra il fatto, secondo me importante, che il jazz che è una musica che è nata dall'incontro, che è una musica che è nata dall'inclusione e dal mix delle culture, in realtà non ha mai smesso di incrociarsi, di mescolarsi e questa sera andiamo a vedere come il jazz ha saputo inglobare e trarre nuova linfa anche dalla cultura, dalla tradizione della musica spagnola. Due grandi esempi, questa sera inizieremo con Ciccoria che ci farà vedere il suo cuore spagnolo e poi anche finiremo la serata con Richard Bona che ci racconterà la sua favola in musica in un linguaggio che è un po' in mezzo tra il flamenco, l'Africa e appunto il jazz. Signore e signori, ancora una volta a Umbria Jazz, un grande piacere per me, un attimo e arriva Ciccoria con la sua spanish art band. Grazie! 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 Grazie. 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 Buongiorno a tutti. Please, uh, welcome my amazing friends. Uh, please, first of all, uh, from, uh, from, uh, from, uh, from España, the great Nino Josele on the guitar. From Cuba, via Los Angeles, please welcome Calitos del Puerto on the bass. From Queens, New York, from Harlem, from Brooklyn, from, from all over the, the place. Please, please welcome the great Marcus Gilmore on the drums. Marcus. Uh, originally from Venezuela through New York City. Everybody comes through New York City, it seems like. Please welcome Luisito Quintero on the percussion. Okay. Also, uh, actually born in Boston, but, um, but grew up in Spain and lives every place. Please welcome our, our dancer Nino De Los Reyes. Nino De Los Reyes. Uh, from Madrid, my friend for many years, uh, the original, one of the original members of the Paco Di Lucio band, please welcome Jorge Pardo on the flute and saxophone. Uh, from, uh, oh, right, right, right. From Queens, then Miami, then New York City, please welcome Michael Rodriguez on the trumpet. From Hartford, Connecticut, the USA, please welcome the great Steve Davis on the trombone. Thank you very much. We're going to, uh, we're going to, uh, check the sound a little bit, and then we're going to begin with, uh, two songs from the new recording. The first song is, uh, composition by one of my favorite composers, Igor Stravinsky. It's on the recording, uh, it's called Pas de Deux, and the second piece is the title song of the new recording, Antidote. So, thank you for coming. Here we go. I'm just going to play the piano. Oh, yes. Oh, yes. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.